Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Canale 3 Toscana. Cominciamo da una notizia che riguarda un imprenditore che ha la volontà di investire sulla nostra città, sul nostro territorio. La punta dell'iceberg è la sponsorizzazione alla menzana basketball, ma ci sono tutta una serie di investimenti che vanno da strutture ricettive, agenzie di comunicazione e molto altro che l'imprenditore Gianluca Rotondi ha iniziato già a fare e farà sul nostro territorio. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, dice, ma basta avere la buona volontà. Sentiamo il servizio di Aldo Tani. Prima di esporsi siglando le maglie della menzana, come sponsor principale Gianluca Rotondi ha preferito muoversi su Siena, lontano dai riflettori. Parlano per lui gli investimenti in strutture ricettive e un negozio in apertura in Via dei Rossi. Fiducia dovuta al passato da studente universitario e alla convinzione che la città possa arrestare il declino. Credo che Siena abbia delle potenzialità estremamente importanti. Non è una cittadina, voglio dire, dalla mancanza di potenzialità. Forse per troppo tempo si è abituata ad avere supporti che arrivavano dall'esterno e quindi ha imparato male, si è allenata male ad un mercato che è in continua evoluzione, che è particolarmente aggressivo. Una nuova avventura imprenditoriale, frutto anche della connessione con Marco Turchi e figlia di un pregresso che partendo dalla campagna ha saputo espandersi in tutto il paese e su settori diversi. Il passaggio in Toscana rientra in questa logica aziendale nella speranza che la sinergia con il territorio possa funzionare al meglio. Io mi sento sereno e pronto a poter pian piano diventare un riferimento per l'imprenditoria locale in qualsiasi direzione se voglia andare, perché se mettiamo un pizzico di pelo sullo stomaco, mi passi il termine, insieme a quelle che sono le potenzialità ataviche di questo posto, probabilmente portiamo a casa un gran risultato. A dimostrazione della caparbietà in cantiere ci sono nuovi investimenti. C'è un interesse estremamente ampio, sia in ambito health care, che è un verticale che seguiamo tanto, che in ambito produzione locale. La luna di miele è appena iniziata. Per una città troppe volte seduta e abbandonata, l'importante è che non sia un fuoco di paglia. Il mondo del volontariato della provincia di Siena guarda positivamente ai contributi che arrivano dalla regione toscana, che riguardano il trasporto emergenza-urgenza. Adesso però le richieste che da Siena arrivano a Firenze sono quelle di guardare anche al rincaro dei costi, soprattutto per ciò che riguarda i carburanti, la luce e il gas. Il servizio è di Marco Crimi. Bene l'arrivo di nuove risorse, ma bisogna fare di più, visto che le tariffe erano ferme al 2008 e il costo della vita è inesauribilmente aumentato. Il coro del mondo del volontariato senese è unanime ed è la reazione a quei 110 milioni di euro, di cui i 26 per l'ASL sud-est, che la regione destinerà ai costi forfettari delle associazioni per il 2023 sul tema del trasporto in emergenza-urgenza. Sara Giannini, presidente della pubblica assistenza di Siena, plaudi all'impegno della giunta regionale e parla di un regalo di Natale, ma anche lei chiede maggiore impegno. Aiutano senz'altro, non bastano, ma perché c'è stato un aumento delle tariffe acqua, luce e gas, soprattutto luce e gas del 160% e anche quelle vanno a intaccare in un modo molto molto importante le risorse finanziarie dell'associazione. Sulla stessa linea Paolo Almi, provveditore della Misericordia di Siena. Il problema è che questo serve a ripianare tutte le mancanze, i deficit che noi abbiamo accumulato perché queste cose andavano preparate al costo della vita da decenni, da anni e non solo, ma poi c'è una legge regionale che ci impone di rilassare un'ambulanza dell'emergenza dopo 10 anni di vita o dopo 250 mila chilometri, noi saremo in una situazione tra qualche mese di dover ordinare, comprare non so quanti mezzi e queste risorse sono briciole. Manuela Becatelli, presidente della pubblica assistenza di Poggi Bonzi, si focalizza invece sull'importanza della legge regionale 1056. Dal lunedì è in vigore almeno per una fascia di popolazione, questi trasporti possono essere rimborsati o di nuovo rimesse a carico del sistema sanitario nazionale per le persone con fragilità socio-economica. Da oggi l'aula lettura dell'Università per stranieri di Siena è intitolata Michela Murgia, la scrittrice vincitrice del premio Campiello, fra l'altro nel 2010 con il romanzo celebre a Cabadora, che era stata già ospite dell'Ateneo per stranieri della nostra città e che è scomparsa purtroppo a causa di un male incurabile lo scorso agosto. Moltissime le persone che oggi hanno deciso di partecipare alla cerimonia di intitolazione dell'aula nella Università per stranieri di Siena. Gennaro Groppa. Da oggi l'aula lettura dell'Università per stranieri di Siena è intitolata Michela Murgia, scrittrice, attivista, drammaturga, vincitrice nel 2010 del premio Campiello con il romanzo a Cabadora, Murgia è venuta a mancare nell'agosto scorso, quando aveva appena 51 anni, a causa di un male che non le ha lasciato scampo. A marzo Michela Murgia era stata ospite dell'Ateneo per stranieri, dove aveva tenuto una lezione dal titolo L'influenza e la strategia del soft power e dei key contents. Una lezione che fu molto partecipata dagli studenti dell'Università che ha la propria sede in piazzale Fratelli Rosselli e nel corso della quale la scrittrice aveva parlato di modelli importanti e di sviluppo che si stanno registrando negli ultimi anni, facendo l'esempio di quel che sta avvenendo nella Corea del Sud. A margine di quella iniziativa Murgia aveva parlato anche di un tema che le stava particolarmente a cuore, come la lotta alla discriminazione di genere. Abbiamo bisogno di modelli ispiranti, abbiamo pensato che i ragazzi e le ragazze studiando in quest'aula possano costantemente ricordarsi perché si studia, si studia per cambiare il mondo, perché così come non ci piace. Studiare vuol dire cambiare la propria vita, la scrittura, la lettura, la cultura non sono intrattenimenti, servono a modificare il mondo, a cambiare i rapporti di forza e stanno dalla parte di chi è sotto. Michela Murgia da questo punto di vista è stata una figura esemplare e ispirante. Presente alla cerimonia anche il rettore dell'Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra, ed era in sala per l'occasione il marito della scrittrice, l'attore e il regista Lorenzo Terenzi. La olamagna Virginia Woolf era piena di studenti, professori e di semplici cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Michela Murgia. È bellissimo, è tanta gioia perché mi piace che sia un'Università, che sia un'Università con questa bellissima energia, un'Università per stranieri, quindi dove ci si incontra tra culture diverse e ci si contagia, perché credo, come credeva anche lei, che il contagio tra persone diverse è la cosa più bella del mondo e è ciò che ci porta a creare quello che ancora non conosciamo. Più rosso di Montalcino sul mercato. L'Assemblea dei Soci ha deciso per l'ampliamento degli ettari di terreno per la produzione della denominazione di origine rosso di Montalcino. Il CDA del Consorzio del Brunello ha poi ratificato la decisione. Per il vigneto della DOC, che attualmente è di 519,7 ettari, è stato definito un incremento pari a 350 ettari, con una tolleranza aggiuntiva del 4%, che porta a un totale complessivo di 364 ettari. Il potenziale produttivo aggiuntivo del rosso di Montalcino sarà quindi di poco più di 3 milioni di bottiglie, da sommare all'attuale media di 3,6 milioni di pezzi l'anno riscontrati negli ultimi 5 anni. Un dato, quest'ultimo ritenuto dal Consorzio troppo leggero a fronte di una domanda internazionale sempre più interessata ai vini della denominazione. Abbiamo pensato, ha detto il Presidente del Consorzio Brunello, Fabrizio Vindocci, a un modello sostenibile per la competitività di un vino in ottima salute, la cui debolezza congenita sta proprio nella scarsità di prodotto. Allo stesso tempo abbiamo ritenuto importante attuare l'ampliamento senza impiantare però un centimetro di vigna in più. Infatti i 350 ettari aggiuntivi sono già nelle mappe del territorio come quote di vigneti coltivati a Sangiovese ma liberi da albi contingentati. Con questa scelta i soci e le altre imprese del territorio avranno la possibilità di ristabilire una conduzione produttiva ottimale e allo stesso tempo di non stressare la produzione di uve dei vigneti rivendicati a Brunello. Per la ratifica formale la proposta dovrà ora passare alla regione toscana che ha comunque attivamente collaborato alla definizione del piano. Siena FC e tifosi pronti a collaborare, a dare una mano per poter giocare in un campo adeguato e questo succederà ovviamente, la partita si giocherà come di consueto al Daniele Berni e alla vigilia dell'incontro i tifosi daranno una mano a sistemare il campo. La preoccupazione però si sposta sempre di più sull'Artemio Franchi. Pietro Federici. Sono state settimane piene di dubbi ma alla fine il Siena Football Club giocherà domenica allo stadio Daniele Berni di Badesse. Le parole di mister Lamberto Magrini nel post partita dell'ultimo incontro casalingo sulle condizioni del campo non sono rimaste inosservate e la società bianconera ha voluto dare un segnale. Sabato mattina infatti, alla vigilia del match contro il Foiano, la società ha invitato tutti i tifosi al campo di Badesse, i quali aiuteranno gli addetti ai lavori a rendere il terreno di gioco il più praticabile possibile. Si tratta di fare un po' di manovalanza, non ci tiriamo indietro, purtroppo sta patendo questa situazione che ormai si potrà da 5 mesi, di non avere un campo dove giocare. Va ringraziato la società del Badesse e del presidente Berni che fin da subito si è dimostrata disponibile a dare una mano al Siena. Bisogna dare atto a Giacomini di avere preso una società con tutte queste problematiche e di avere fino adesso ottemperato nel migliore dei modi all'allestimento della squadra. I fedelissimi, come dichiarato dal presidente Lorenzo Molinacci, danno il pieno sostegno al presidente Giacomini e sono grati a lui per il percorso fatto finora. La vera situazione che suscita preoccupazione ai tifosi è quella legata allo stadio Artemio Franchi. Si era previsto il 7 di dicembre il giorno del rientro al Franchi. Oggi siamo al 14 e ancora non sappiamo. Sono preoccupato e la cosa non mi piace perché non vorrei che poi magari qualcuno si potesse anche disamorare e ritornare a capo. Io mi auguro che dal giorno dopo il Comune sia già al lavoro, al campo per rendere il campo agibile nel minor tempo possibile perché questo ovviamente spetta al Comune. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi auguriamo una buona serata. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le novità, le news dell'ultima ora sui canali web e social di Canale 3. Vi auguriamo una buona serata con la nostra programmazione. Grazie. Grazie.